Sto venendo mia sorella due giorni e la sto andando a prendere un pochino in ritardo As always Così ci facciamo due giorni insieme Qui a Roma vorrebbe cercare di trasferirsi qua a Roma e avere una sorella vicino Mi facerebbe, sinceramente È arrivata mia sorella, mi ha portato il lampredotto che è la cosa più buona del mondo E oggi pevoriggio la porterò a cercare, diciamo, il posto dove vorrà lavorare, insomma Fa tipo le robe un po' rosse Abbiamo quanti appuntamenti? Per ora tre Abbastanza vicini, speriamo che lei scelga qualcosa di abbastanza vicino Per ora uno, torniamo tra poco con gli aggiornamenti Prima impressione? A me piace, è pulito, è nuovo Sì, poi mi ha dato una buona impressione Sì Ha questo bocciato subito Subito bocciato Perché non parla A parte ci ha fatto spettare dieci minuti così Esattamente bocciato, bloccato Vediamo se ci convince Grazie a tutti